Aggiornamento Osimè Alali, gli intermediari del club Arbo sono arrivati questo pomeriggio in Italia per trattare direttamente con il Napoli, l'intenzione è di accelerare più il possibile la trattativa e provare a chiuderla già nelle prossime ore. Questa accelerata arriva dal sì e dall'apertura al trasferimento che ha dato Vittor Osimè nel primo pomeriggio, anche data la mancanza di offerte per lui, dato che in questo momento c'è solamente interesse del Chelsea che ha fatto 500.000 acquisti e in questo momento sta tentennando per trovare un accordo con il giocatore, dato che il giocatore non ha nessuna intenzione di abbassarsi lo stipendio e quindi chiede uno stipendio abbastanza corposo. Nel frattempo Alali ovviamente questi problemi di soldi non ce li ha e infatti avrebbe presentato un'offerta al giocatore per un contratto fino al 2028 quindi da 4 anni dove percepirebbe complessivamente 120 milioni di euro in 4 anni quindi 30 milioni di euro annui, tanta tanta roba, tanti tanti soldi che in questo momento quindi stanno facendo tentennare Osimè che potrebbe accettare la proposta araba. Mentre a Napoli avrebbero presentato ufficialmente l'offerta da 65 milioni di euro con il Napoli che in questo momento ci sarebbe ripensando e vorrebbe più soldi per l'attaccante nigeriano e in questo momento infatti ne vorrebbe 80. Ma c'è fiducia nel trovare un accordo nelle prossime ore. Il Napoli vuole cederlo, l'Alali lo vuole a tutti i costi e quindi le prossime ore saranno decisive per la chiusura. Voi che cosa ne pensate? Ditemi la vostra.